Voglio dirmi grazie, invece oggi voglio dirvi grazie io, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi per questa piazza meravigliosa Dicono che ormai le campagne elettorali e la politica anche più in generale si facciano soprattutto in rete e sui social Non per noi, per noi le campagne elettorali si fanno ancora, soprattutto guardando le persone negli occhi Perché quelle persone possano vedere se il nostro sguardo è sincero Noi non rinunceremo mai alla piazza, non rinunceremo mai a stare in mezzo alla gente Perché è esattamente da dove siamo venuti e per ricordarci chi siamo ora e sempre sarà qui che torneremo In piazza, in mezzo alla gente E poi grazie per essere venuti a darmi ancora una volta la carica che serve, vi garantisco che saprò farne buon uso